Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti e gente strana in noi, eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava, l'America! Poi rimaniva lì, immobile, come avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatta aiutare dal cognato, muratore, brava persona, prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno e non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no, e nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene già la vedevi, l'America. Già lì, pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue, che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel grido, America! C'era già in quegli occhi di bambino tutta l'America, lì ad aspettare.